come vedete la struttura centrale, i due perni centrali hanno 3 AX, quindi ci si deve mettere una congiunzione questo pezzo qui che è il pezzo diciamo più ostico va con questi pali che non hanno i piedini regolabili quindi sono due pali con i piedini non regolabili che vanno esattamente in quella struttura là mentre gli altri 4 hanno tutti quanti che vanno diciamo sul quadripodo hanno tutti quanti la parte ben regolabile